Roberto, vittoria molto importante, campo difficile, prestazione importante contro una squadra di alto livello muro granitico stasera, tu sei stato uno dei protagonisti, ma tutta la squadra a muro soprattutto è stata fenomenale Sì, l'importante era vincere, abbiamo vinto da 3, 3 a 0 in cui un campo difficilissimo, anche altre big qui avevano perso dei punti abbiamo giocato molto bene, abbiamo fatto una buona fase break, questo ci ha consentito di avere sempre del vantaggio su di loro Senti, giorno dopo giorno, partita dopo partita, stai prendendo sempre più ritmo in campo Sì, è difficile, la stanchezza dopo un po' si fa sentire, però ecco, sono contento di aver giocato tutta la partita devo continuare così, perché è stata giusta Un'ultima cosa, te ci proietto, anche se adesso magari è giusto godersi un po' questa vittoria domenica arriva un altro avversario al Palabarton per la penultima del giornale di andata Molto tosto, Monza, finalista di Supercoppa, un'altra partita da prendere assolutamente con le molle un'altra partita dove cercare ulteriori miglioramenti nelle prestazioni Sì, assolutamente, noi dobbiamo fare il nostro gioco, Monza è una squadra simile a Piacenza individualità importanti, giocano molto bene, dobbiamo essere concentrati e ottenere la vittoria e poi pensiamo alla Champions e così via Bene, grazie Roberto Grazie a tutti